Ciao amici benvenuti nel mio canale punto come state, oggi in questo video parliamo di divano, con alcune tecniche moderne e spero vi piaccia. È davvero una scelta intelligente punto potete fare molti esperimenti con esso, è sempre un'ottima idea, che è facilmente gestibile. Con questa idea la nostra casa diventa attraente e bella, anche elegante e moderna. Quindi per favore iscriviti al mio canale e mostra il tuo amore, se vuoi che la tua casa sia bella e unica, allora devi guardare il mio canale grazie. Quindi qui ho condiviso alcune tecniche e trucchi unici che ti piacciono davvero. Dovresti credere che un divano ti obbedirà, se non ci credi, guarda il video fino alla fine e ci crederai, quindi oggi ti darò delle grandi idee. Inoltre, sarai anche costretto a prendere questo set di divani perché è un'era molto intelligente e dovremmo camminarci con intelligenza. Se possiamo, fare molte altre cose da una cosa, allora ci sono molti vantaggi. Uno è che non ci sono problemi di spazio in casa e l'altro ci fa risparmiare anche i soldi, quindi qui vediamo come possiamo usare un divano. Cioè a volte possiamo trasformarlo in, una sedia, e, a volte possiamo trasformarlo in un letto. Sembra incredibile e ne sarei soddisfatto. È abbastanza morbido e si fonde comodamente con un bel colore. Ok, eccomi qui a condividere il video con te in modo che tu possa capirlo correttamente e tu possa realizzarlo da solo, se non vuoi acquistarlo dal mercato. Diamo un'occhiata. Ecco alcune idee condivise con te che possono aiutarti molto. Come puoi creare il tuo divano a casa. Quindi il video sta diventando così interessante e per favore guardalo fino alla fine. Puoi realizzarlo in qualsiasi forma tu voglia. Spero che il video ti piaccia e che tu abbia più idee. Se ti piace iscriviti al mio canale. Prenditi cura di te stesso e ricordami nelle tue preghiere. Ci incontreremo nel prossimo video.